È stato siglato un accordo di collaborazione tra il Comune di Pesaro e quello di Urbino, quindi le partecipate, Urbino Servizi ed Aspes, collaboreranno. Cosa significa questo? Significa che con il Comune di Pesaro, che è titolare del 82% di Aspes con gli altri comuni, che con la nostra società può collaborare per migliorare i servizi. Abbiamo fatto questo protocollo, abbiamo siglato questo protocollo per capire come migliorare questi servizi e implementarli, perché abbiamo bisogno di dare dei buoni servizi ai cittadini, cercando di economizzare al massimo. Sappiamo che sia loro che noi gestiamo anche le farmacie, quindi in questo senso c'è bisogno di potenziare, perché ovviamente bisogna essere al passo con i tempi e c'è bisogno di fare una gestione ottimale degli investimenti. Quindi abbiamo siglato questo protocollo, che sicuramente dovrebbe portare a una collaborazione più vicina delle due partecipate sulla spinta di quello che i Comuni di Pesaro e Urbino, ma che chiaramente deve essere di tutti i Comuni, per fare dei servizi migliori, realizzati in collaborazione, in modo di implementare i servizi e renderli più fruibili, più economici per le nostre città e per i nostri cittadini.